successo per la seconda edizione dell'operazione coccherino più di 50 persone hanno partecipato domenica scorsa all'evento organizzato dall'associazione elba fortificata con la collaborazione di elba trekking un'escursione nella zona più verde dell'isola attraversata solo da sentieri accompagnata da alcuni figuranti in divisa dell'epoca per raggiungere la vecchia postazione del caposaldo tivoli presidio del regio esercito durante la seconda guerra mondiale i partecipanti si sono ritrovati al piazzale del monumento e attraverso il sentiero 48 quello che porta a monte tambone in pochi minuti hanno raggiunto il cosiddetto caposaldo tivoli fortificazione che durante il secondo conflitto mondiale poteva controllare sia la zona di lacona fino a capoliveri a monte calamita sia la zona del campese fino a procchio non c'erano cannoni ma artiglieria leggera in particolare mitragliatrici per l'occasione la postazione è stata ripristinata e fedelmente riprodotta dagli appassionati di elba fortificata proprio in sommità al coccherino insieme ai figuranti che hanno rievocato delle scene di vita quotidiana di quei tempi erano presenti anche i somari insostituibili mezzi di locomozione dell'epoca grazie alla collaborazione dell'associazione somareria dell'elba grazie 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 grazie